Ancora a voi? Ma non sarà ancora per uno dei vostri fantastici progetti, eh? Sì, ma questo è davvero bellissimo! Una rubrica mensile sul canale YouTube dell'Oratorio, tenuta interamente da ragazze di prima superiore. Parleranno dei temi più vari dal loro punto di vista. Ma come dire che ci sono capaci? Ma dai! Ascolta, per me non sono abbastanza maturi. A meno che li mettiamo alla prova, devono proprio dimostrare che siano all'altezza. Sai, sono tutti questi pregiudizi sui ragazzi, devono dimostrare che ce la possono fare. Facciamo così, facciamo tre squadre, alfa, beta, gamma, e vediamo come se la cavo. Anzi, ti dico anche come dividere. Useremo questa palla. Anzi, ti dico anche a tutti. Allora, ti dico anche a tutti. Grazie 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 a tutti. Bella a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Non abbiamo un nome. Arriviamo a 100.000 like per un prossimo video di Porto e vi batto al reale. Iscrivetevi e schiacciate la campanella che è infatti il tasto subito. E noi stiamo sempre qua per voi ragazzi. Bella a tutti ragazzi. Grazie a tutti.